Signore e signori, buonasera. Andrà ora in onda in diretta dal Casinò Capuleti Disco Palace il ballo in maschera, organizzato per favorire l'incontro tra la giovane Capuleti e Paride, quel gran pezzo di figo. Ricordiamo che all'evento non potrà prendere parte alcun Montecchi e che per partecipare occorre essere in regola col pagamento del canone. Non mi resta che ricordarvi che il programma è sottotitolato alla pagina 777 di Televideo. Vi auguro una buona visione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Oh, mamma mia, here I go again. My, my, how can I resist you? Mamma mia, love you show again. My, my, just how much I miss you. Can't be brokenhearted. Who's just a little bit parted? Why, 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 can't I ever let you go? Come up me up. Now I really know. My, 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 can't ever let you go. Who's just a little bit parted? Who's just a little bit parted? Come up me up. Come up me up. Come up me up, come up me up. Come up me up me up. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.